Il Comune lo aveva promesso e da oggi cambiano le tariffe al parcheggio di prossimità di Porta Leoni. Nonostante tutto qualche polemica caratterizzato i nuovi prezzi più bassi, ma l'assessore Paula Giuliani ha voluto fare chiarezza su tanti aspetti. I numeri, se si lascia la macchina per un'ora si pagherà un euro perché la prima mezz'ora resta gratuita. Con la vecchia tariffazione al termine della prima mezz'ora gratuita veniva applicata la tariffa piena di due euro. I posti auto restano gratis, 90, dalle 20 alle 8 del giorno successivo e nei festivi, da specificare che in città sono gli unici posteggi a pagamento in piano centro vicino a San Bernardino, soprattutto pensati dal Comune per fare dei servizi brevi. Cerchiamo così di implementarne l'utilizzo, soprattutto con l'arrivo delle manifestazioni che si terranno durante tutto il corso dell'estate. Vorrei ribadire che questo è un parcheggio per brevi utilizzi, per utilizzi più lunghi c'è il nostro terminal. Adesso è stato istituito anche un servizio di navetta che oltre a portare gratuitamente verso la villa comunale, porta anche verso la fontana luminosa, quindi nei due lati della città. Per cui chi va al lavoro può tranquillamente parcheggiare lì gratuitamente, può prendere questa navetta che non fa soste intermedie, se non due brevissime, quindi consente tranquillamente di arrivare in ufficio in orario, trovare la macchina in un posto tranquillo. Adesso c'è anche la postazione dei vigili urbani che garantisce una maggiore sicurezza. Nel resto della città i parcheggi non si pagano, anche se c'è la volontà di ripristinare le strisce blu e anche il mega parcheggio, come ha ricordato l'assessore Giuliana, è gratuito, ma nonostante questo viene poco usato. Per il Comune comunque le nuove tariffe sono assolutamente congeniali, trattandosi di posteggi in pienissimo centro. Come del resto la gente dovrebbe abituarsi ad usare il terminal, anche perché ci sono stati tanti miglioramenti. La buona notizia è che comunque la gara è andata a buon fine. Finalmente al mega parcheggio di Colle Maggio tornerà attivo anche il tapirulan, che è utilissimo per raggiungere sulla scala mobile Piazza Duomo. Vorrei anche ricordare che prima del sisma un'ora veniva pagata un euro, quindi tutto sommato dopo 15 anni questo prezzo non è eccessivo come alcuni ritengono, ma ripeto è un parcheggio per brevi soste, per i lavoratori, i dipendenti delle varie del Comune o per banche e quant'altro abbiamo il parcheggio del terminal.